Il 20 aprile del 1914 nasce a Viareggio Carlo Biaggi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Cresciuto calcisticamente nel Viareggio, il centrocampista del Pisa ottiene la prima convocazione con la nazionale di Vittorio Pozzo, proprio in occasione dei giochi olimpici tedeschi. Schierato dal primo minuto sin dal match inaugurale con gli Stati Uniti, lascia il segno nella goleada azzurra contro il Giappone, realizzando la bellezza di ben quattro reti. La prestazione supera i quarti di finale, gli vale così la maglia da titolare sia nella semifinale contro la Norvegia e sia nella finalissima contro l'Austria, vinta dall'Italia per 2-1 dopo i tempi supplementari. Per Viaggi, quelle alle Olimpiadi di Berlino resteranno le uniche quattro presenze con la maglia azzurra. Grazie.